Doveva essere una polizia simbolica di uno dei gioielli del golfo di Castellammare, la baia delle grotte di Balestrate. Gli ambientalisti però hanno trovato di tutto. L'evento promosso dalla cooperativa Terre delle Balestrate, con la collaborazione dell'associazione Plastic Free, si è trasformato in un'operazione di bonifica della spiaggia che si trova tra le pareti ricche di fossili preistorici, in una piccola baia dove nel tempo sono stati costruiti e poi smontati diversi diti. In contatto di costa c'era infatti di tutto, tubi industriali, vecchi elettrodomestici, rifiuti ammassati provenienti da altre attività di polizia della spiaggia, cavi elettrici e persino un estintore arriva. Alle operazioni si sono unite anche diversi bagnanti, ma l'operazione di polizia è comunque rimasta parziale, tanto erano i rifiuti presenti. L'evento di oggi, polizia della baia alle grotte a Balestrate, è stato svolto dalla Onlus Plastic Free, in collaborazione con la cooperativa Terre delle Balestrate. Oggi abbiamo pulito questa baia che si trovava in condizioni pessime, abbiamo trovato rifiuti di ogni tipo, abbiamo anche svolto questo evento di pulizia grazie alla collaborazione con Levante Tour. Come volete vedere abbiamo raccolto una quantità di rifiuti considerevole, sperando che il comune di Balestrate ci aiuti nel differenziare tali rifiuti. La Onlus Plastic Free è una Onlus a livello nazionale che promuove la pulizia delle baie, delle spiagge, delle piazze, dei paesi e delle città in generale, soprattutto dalla plastica ma da ogni tipo di rifiuto. Inoltre svolge anche attività di sensibilizzazione, quindi nelle scuole e con le altre associazioni, per rendere noto a tutti il problema che ci affligge, ovvero quello di inquinamento da plastica. La situazione è terribile perché la situazione in cui versano le spiagge, in questo caso siciliane, dove noi operiamo, è molto critica. La plastica che si trova in spiaggia è veramente tantissima. Si va dalle microplastiche, la plastica un po' più piccola come tappi di bottiglia soprattutto, a plastica monouso come posate, bicchieri di plastica, ma anche a oggetti di plastica molto più grandi come contenitori, come secchi e anche per esempio plastica e catrame come copertoni e altri materiali ingombranti. La proposta è quella di sensibilizzare più persone possibili verso i temi ambientali perché in Sicilia abbiamo tantissimi gioielli come appunto Baia le Grotte, però purtroppo sono in condizioni pessime. Quindi l'obiettivo di oggi vuole essere proprio quello di testimoniare con la nostra presenza che insieme è possibile comunque migliorare e fare tanto per il nostro territorio. Quindi è un invito a sensibilizzare tutti. Anche d'estate si può fare qualcosa. Andando in spiaggia si può raccogliere, se vedete bottiglie di plastica, tappi di plastica, qualsiasi cosa, portate con voi sempre un sacchettino e cercate di raccogliere i rifiuti. Quindi ogni persona può fare veramente la differenza e oggi siamo qui proprio per dare questo messaggio. Allora, bellissima giornata anche se è un po' calda, su proposta della cooperativa di comunità Terre delle Balestrate grazie alla collaborazione Plastic Free stiamo cercando di ripulire questa Baia delle Grotte purtroppo abbandonata. Agli occhi di tutti l'abbandono di questa Baia che purtroppo non trova collaborazione da parte delle istituzioni. Dobbiamo tutti attenzionare di più questo territorio. Purtroppo la raccolta della spazzatura lungo il litorale una volta ogni 24 ore non è una strategia vincente. Nelle località turistiche deve essere fatta almeno tre volte al giorno. Ci sono regole un po' strambe sul litorale, per esempio nella vicina Boscaglia prima della pandemia c'erano i bidoni della spazzatura. Durante la pandemia sono stati tolti e ancora non sono stati reintrodotti. Questo significa che chi fa la giornata di grigliata in Boscaglia poi verrà a disperdere questa spazzatura lungo il litorale. Questo diciamo i più educati, i meno educati, l'andranno a lanciare prima di imboccare l'autostrada. Chiediamo a tutti maggiore collaborazione, soprattutto alle amministrazioni. Chiediamo grazie, rendiamo grazie a questi ragazzi che stanno collaborando oggi. C'è una delegazione che viene da Castellammare, viene da Alcamo e grazie anche ai numerosi ragazzi balestratesi. Qui nella Baia delle Grotte ci sono come vedete tanti materiali abbandonati nel corso delle varie gestioni di questa Baia. Quindi ci sono tubi, fosse IMOF, dei residenti mi segnalano dei cavi elettrici accanto a tubi di scarico. Quindi ci sono illesiti vari che andrebbero sistemati. Chiediamo all'amministrazione di intervenire più presto magari anche con un incontro pubblico. Grazie a tutti.